Casselfidardo e Vassese si sfidano nel recupero della settima giornata di andata, con gli abruzzesi a secco di vittoria da tre mesi, mentre il momento del candidato di Fidardenzi è positivo, con i quattro punti guadagnati negli ultimi due derby. Alla fine ne è uscito fuori un pareggio che può accontentare entrambe in quanto permette di muovere la classifica. I ritmi sin dai primi minuti non sono altissimi, all'ottavo si vede il castello con una punizione di riddio che non trova nessun compagno all'appuntamento col colpo vincente. Al quarto d'ora sono ancora i bianco-verdi a portarsi in avanti con un cross dalla destra di Cosimano che attraversa tutta l'area di rigore. Al diciannovesimo si vede per la prima volta la vastese con De Angelis che conclude dal limite ma non inquadra la porta. Al venticinqueso il match si sblocca. Rapido scambio Bracciatelli-Mataloni che di prima intenzione crossa verso il centro incontrando il perfetto inserimento di Braconi che infiera la porta di Di Renzo. La vastese si scuote subito e già dopo 60 secondi va alla conclusione con Di Prisco che David blocca a terra. Alla mezz'ora si rivede in attacco il Castelfidardo con un incalcio franco del solito di Dio che trova la girata di prima intenzione di Giampaolo facile per Di Renzo. L'arbitro concede tre minuti per infortunio a corso assorgente e proprio all'ultimo secondo gli abruzzesi pareggiano. Azione insistita a Biancorossa con la palla che giunge a Barbarossa che la difesa di Lauro lascia colpevolmente libero al tempo di mirare l'incrocio centrandolo con Davide che nulla può. Nella ripresa la vastese a minare le danze con il castello che accusa un evidente calo fisico complici di impegni ravvicinati. E eccezione fatta per una conclusione di Martinez al quinto le emozioni si concentrano tutte negli ultimi cinque minuti. Al quarantaduesimo rapido contropiede ospite che porta al tiro Martinez che mira il primo palo ma è sfortunato in quanto colpisce in pieno il legno. Al quarantacinquesimo è Di Filippo a provarci ma la sua girata termina sul fondo. Un minuto dopo sono i bianco-verdi ad avere l'occasione per portare a casa i tre punti ma il tiro a giro di Giampaolo termina fuori. L'ultima occasione ce l'hanno gli uomini di D'Addario con Di Prisco che saggia i riflessi di David che blocca in due tempi. La vittoria per il bianco-rosse era ancora rimandata mentre il Castelfidardo può continuare la sua serie positiva. La partita l'abbiamo impostata bene, stavamo facendo molto bene giocando, facendo noi la partita. Loro si difendevano anche bene, poi abbiamo trovato il gol. Dopo il gol siamo noi che ci siamo rilassati, abbiamo smesso di giocare. Noi non siamo una squadra, soprattutto quella che era in campo il primo tempo, era una squadra che doveva continuare a giocare. Non possiamo sicuramente metterla sulla battaglia con quei giocatori che avevamo, quindi dovevamo continuare a giocare. Però poi abbiamo preso un gol un po' sciocco sul recupero del primo tempo, un gol molto evitabile, sull'unico tiro che avevano fatto, però va bene. Poi dopo purtroppo il secondo tempo siamo calati un po' fisicamente, il campo purtroppo è quello che è, ci dà grossi problemi per giocare. Nel secondo tempo siamo vistosamente calati, abbiamo giocato un giorno dopo di loro, quindi ci poteva stare. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà con questi lanci e questa riaggressione che facevano sulle seconde palle. Noi dobbiamo prendere sempre lo schiaffo per poi reagire. Abbiamo preso lo schiaffo e abbiamo reagito. Abbiamo fatto bene gli ultimi dieci minuti del primo tempo e la parte seconda della partita. C'è un po' di rammarico perché, a parte i ragazzi, eravamo anche un po' rimaneggiati, però i ragazzi hanno spinto, forse meritavamo al secondo tempo qualcosa in più, a parte la traversa, però proprio come pressione e come dislocazione in campo loro hanno fatto poco. Contro una squadra che è comunque organizzata, io ho visto un'altra partita, il campo era inguardabile sotto il profilo proprio della gestione palla, però avevano fatto comunque una buona partita. E quindi comunque è un punto che uno accetta, nonostante si poteva pensare a un qualcosino in più, però poi se non segni la realtà è questa.